Il primario di chirurgia del Fornaroli di Magenta, Giuliano Sarro, è stato arrestato questa mattina dai finanziari del Comando Provinciale di Milano. Per il medico l'accusa è di corruzione turbativa d'asta. Secondo gli inquirenti, Sarro avrebbe favorito l'assegnazione di un appalto dell'azienda ospedaliera ovest milanese per delle forniture mediche alla Applied Medical Distribution BV, l'azienda dove lavora il figlio, il 28enne Alessandro, che è manager territoriale ed è iscritto nel registro degli indagati. L'indagine su Sarro si era aperta la scorsa estate. La notizia dell'arresto ha suscitato ovvio scalpore nella SST ovest milanese, tramortita dalla notizia. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale, se non quella che la preoccupazione primaria per l'azienda è quella di riorganizzare al meglio l'attività per garantire il massimo servizio ai pazienti. I militari hanno proceduto all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Milano, Olivio Antonello Cristofano. Secondo quanto ipotizzato dalla Guardia di Finanza di Milano, che lo scorso giovedì ha perquisito l'ufficio del primario, le abitazioni degli indagati e la sede della società, la Applied avrebbe incrementato gli ordini da parte della struttura sanitaria dopo l'assunzione del figlio di Sarro avvenuta nel settembre 2017. Al centro dell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dal PM Giovanni Polizzi, ci sarebbe un lotto per la fornitura quinquennale incomodato d'uso gratuito di un sistema bipolare per la sintesi dei vasi, utilizzato per la chirurgia del fegato, della tiroide e dei pazienti obesi e della chirurgia del colon. Un ordine assegnato all'Applied il 19 novembre del 2019. Le indagini della Guardia di Finanza di Milano hanno consentito di riscontrare l'alterazione della procedura negoziata di gara indetta dalla SST Ovest milanese. L'Applied è per questo indagata per corruzione a causa della mancata adozione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevedire la commissione di fatti illeciti a causa proprio dei comportamenti tenuti sul territorio nazionale da uno dei suoi manager, il figlio di Sarro appunto, che è per questo indagato. Per l'azienda il GIP del Tribunale di Milano ha così disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.